Partita La serie numero tredici Presentiamo la numero dodici Mauro Maculan uno Gianmarco Foglia due Giacomo Ferronato tre Lorenzo Pilone quattro Matteo Scalco cinque Simone Braggion sei Riccardo Mella sette Samuel Bergamin in otto È stato ritrovato il cartellino dell'atleta Massimo Meneghelli Della società Tre Piscine È disponibile alla postazione microfonica Grazie E siamo al tocco anche per questa tredicesima serie Sessanta e ventitré Francesco Nascinben dalla settima Corsiamo Grazie 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 Grazie